Ola lei lola ulo e vaffa ulo, allora ho aperto già due surprise bag di Tiger e ora siamo giunti alla terza, devo dire che la prima mi ha un po' fomentato, la seconda è un po' in declino perché c'erano molte cose simili all'altra, quindi spero che anche in questa non sia tutto uguale perché sennò me gazzano, vabbè, allora apriamo subito e vediamo se ho preso in curata così la prossima volta sono che non devo prenderle tutte nello stesso periodo ma magari cambiare perché rifilano sempre le stesse cacate, con piccole varianti perché? perché? ho già visto l'ennesimo, raghi il terzo, cosa me ne faccio? Gesù, mamma mia, praticamente sto kit, che lo devo dire in tutti i video perché mi dicono guarda questo prima degli altri, in cui ti metti due cerchietti con le renne, poi c'è la cintura con la coda e queste scatole da costruire tu facendo movimenti di pelvi devi praticamente buttare giù le scatole con dentro un contenuto divertente come pochi, questa cosa mi sta veramente facendo me il mal di testa ma va bene, un altro è l'ovio un'altra mascherina, io non ci posso credere, ma sono dei cretini, cioè non conviene neanche a loro mettere la stessa cosa in tutte perché uno ne comprerebbe di più ora che lo so ne compro una, anche questo inutile, grazie oh questo non ce l'avevamo nell'altro, me lo potevano mandare un po' prima che era il mio compleanno, però vabbè abbiamo questo che è una bella corona che ho scritto happy birthday, carina dai, niente di che però l'ennesima come si chiama, ghirlanda, ne ho tre tutte identiche, ma anche un altro colore, identiche, grazie veramente, era proprio quello che volevo oh guarda, delle candele, guarda, delle candele è il terzo pacco, vabbè poi basta, altri gessetti, ora ve li faccio vedere almeno in questo sono dei gessetti, eh no, ditemi come posso utilizzarli e non mangiandomoli come nei video che guardo ASMR dalla gente che mangia i gessi poi ho scoperto recentemente che in realtà sono gessi commessibili cioè ancora un po' ci davo una dentata, poi in realtà su Amazon vendono gessi fatti di zucchero truffa trippi poi questo chi mi prego ma siamo seri? no, vabbè, non ho parole altro portaocchiali splendido, ottimo, non ne ho già tre no, ma neanche di un altro colore, capite oh, una cosa diversa la sabbia magica sans sound sensory sound vediamo questa sabbia magica che tra l'altro è anche rosa quindi ci potrebbe piacere vediamo prendiamola se riesco wow, è strabella ne avevo tempo fa una che mi aveva regalato Dani ma non era così bella guardate quanto è questa è fantastica è super flaflosa cioè non so se rende ah, questa macchia qua è un pezzo di smalto che non riesco a togliermi, no, preciso ti prego ah questa mi piace è rilassante si, la sto smerdando in ogni dove ma insomma almeno è una cosa nuova ci piace ce l'ho tutta nelle unghie ovviamente sì poi adesso tutto farò un party apposto per usare questi per scrivere vieni alla mia festa barra sì, no alla festa di Stefani la papilla più sceva del mondo sono bionda sono brava almeno bionda lo sono diventata rispetto a quello che scrivevo nei temi di squadra o un altro di questi e l'ennesima cartolina anzi due cartoline bellissime che mi schiazzo tutte su per il culo ovviamente questo per il solito per giocare a Tris a dots and box e all'impiccato ci sono talmente tanti che mamma mia vabbè mi è piaciuta ovviamente no vabbè a sto punto apro nello stesso video un altro perché praticamente l'unica cosa nuova era questa sostanzialmente anche quella no non ce la posso fare basta vabbè però almeno posso giocarci in tantissime persone a questo gioco visto che ho mille mila non me l'aspettavo e non me l'aspettavo di certo proprio no proprio proprio no basta le candele almeno sono utili un altro auguri un altro calendario inutile odio tiger che amore ma che bello eh però vedi l'unica cosa diversa mi fa ricredere un notebook sofficioso a forma di avocado tipo di pera non lo so di pera o avocado notebook non c'è dato a sapere comunque questo è carino da mettere sulla scrivania è simpile è molto simpile poi abbiamo ho delle pinzette per capelli abbastanza aberrevoli molto bene e questo oh guarda dei jenzy e queste mascherine che a questo punto senti ma come stamele un po' vedere bene si sono aberranti sono aberranti concordo ma sono sicura che se finiranno in mano di mia madre diventeranno utili perché poi hai tutte le minchiate le sfrutta bene questo è tutto sono soddisfatta ovvio che no cioè cose utili già ne sono andre vabbè però me li rivendo magari mi faccio dei soldi ma che che mi compra è questo ditemi voi lo volete cioè questo è tutto e c'è da la fine ah vai guardate i bordotti che meraviglia se non sto capendo l'unica cosa utile cioè l'unica cosa bella l'ho fatta cadere tutta fuori brava veramente brava però per fortuna ci sono le cartoline che recuperano tutto no in realtà ce l'ho tutto nel bagianino molto bene il bagianino raccoglie tutto è tipo una specie di dispensa dov'è il tappo? what is the tappo? bene il tappo è qua questo è tutto vi ricordo che se vi va e se avete Amazon Prime potete seguirmi su Prime lo dico piano perché non voglio il presento nei vicini perché mi fanno i fatti miei potete seguirmi su Tovich abbonarvi ed entrare nel gruppo Telegram gratuitamente invece se non avete Amazon Prime e volete abbonarvi ma entrare sempre nel gruppo Telegram un altro degli abbonati YouTube potete cliccare nell'info box che c'è scritto abbonati o abbonati oppure accanto agli iscriviti c'è abbonati con 99 centesimi vi abbonate entrate nel gruppo Telegram e ci acceriamo mandiamo sticker se faremo cazzate facciamo quel che ci va di fare va bene questo ci darò fino che c'è che c'è che c'è Grazie a tutti.